Arriva adesso la comunicazione ufficiale, niente da fare per Yannick Sinner che si ritira dal 1000 di Madrid e quindi dopo l'eliminazione di oggi di Alcaraz arriva il forfè di Yannick Sinner. Peccato ma da una parte dai vediamo il bicchiere mezzo pieno, in vista di Roma e di Roland Garros avremo un Sinner più carico che mai e voglioso di arrivare in fondo. In fin dei conti l'aveva detto inizio torneo che sarebbe stato solo Madrid utilizzato per fare allenamento e mettere partite nelle gambe, ci ha provato con Kacianov, ci ha regalato una grandissima prestazione, un grandissimo match. Contro Ugar e Aliasim non c'erano le condizioni per scendere in campo e quindi meglio non rischiare e non forzare. Quindi niente, Yannick abbandona il torneo, Aliasim accede in semifinale e quindi diventa uno dei favoriti per la vittoria finale che ora è apertissima perché è fuori Sinner, è fuori Alcaraz, non c'è Diokovic, è fuori Zizipas, fuori Rudd, c'è Daniel Medvedev ma tutti gli altri alla fine sono più o meno sullo stesso livello. Quindi sicuramente il torneo guadagna di interesse però è un peccato perché Yannick sicuramente sarebbe stato il favorito e avrebbe potuto vincere tranquillamente il torneo però se ne esce da imbattuto. Quindi va bene lo stesso e ora testa a Roma dove a questo punto le aspettative sono di un Sinner che potrà puntare la vittoria. Però dico anche ci sta a Roma a provare a vincerlo ma io voglio un Sinner competitivo e focalizzato al 100% sul Roland Garros. Anche perché è il secondo slam dell'anno, Sinner ha vinto il primo, si gioca al meglio dei 5-7 quindi è molto molto difficile a livello fisico per lui affrontare un impegno del genere se non è il top. Quindi va bene Roma ma spero che Sinner non si sprema al 100% a Roma sacrificando Roland Garros. Piuttosto mi auguro che Roma sia ancora un torneo interlocutorio e dia tutto poi in quel di Parigi per provare a fare una doppietta che sarebbe qualcosa di clamoroso. Detto questo io ne approfitto per ringraziarvi, abbiamo raggiunto quota 500 iscritti. Grazie veramente di cuore a tutti per il supporto, non fermiamoci, andiamo avanti così, facciamo crescere questo canale che mi state regalando veramente soddisfazioni e grazie veramente a tutti. Un saluto e avanti a vedere Fritz contro Serundolo di stasera. Ciao a tutti, buona serata.